Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo video vlog Oggi è domenica e volevo farvi vedere i miei nuovi occhiali Ora, in realtà non è un vlog in cui vi mostro i miei occhiali e basta Perché sinceramente penso che abbiate di meglio da fare E se non avete niente di meglio da fare, beh, guardate le mie serie di Minecraft che sono fighe Detto questo, signore e signori, ieri uscite anche in teoria la reaction ai miei vecchi video di Facebook Una roba cringissima, ma andatela a vedere se non l'avete ancora vista E quindi non voglio solo parlare del fatto che ho preso dei miei occhiali nuovi, che sono questo qui E che se non volessi detto probabilmente non avreste manco notato in webcam perché è piccolina nei video Però sono occhiali nuovi, probabilmente notati di più dal riflesso che fanno con le lenti Sono lenti alti di riflesso, però in realtà insomma un po' di riflesso lo fanno Più che altro perché sono nuove, e questa è una roba fighissima Lo indossate, vi giuro mi sono sentito vivo di nuovo Vi spiego, questo non sarà solamente un video in cui vi mostro i miei occhiali Che sono questi qui e sono uguali agli altri Ora li prendo un attimino, dove sono, eccoli E questi erano i miei vecchi occhiali Come vedete sono praticamente identici Li metto uno sopra l'altro Cioè è la stessa forma praticamente Cambia solamente un minimo negli angolini Che è un po' più schiacciata Questi sono un po' più toni, questi sono leggermente più schiacciati E che nel frame c'è questo piccolo pezzettino Che è trasparente, che li rendeva un po' più particolari Ho cercato un paio di occhiali che avessero comunque qualcosa di particolare Di unico della serie, questi No, questi solo io ce l'avevo con questa cazzo di robettina Nell'angolino Ho trovato invece questi qui Che sono più classici sicuramente E sono di Bottega Veneta, mi pare Non sono stato lì a vedere la marca sinceramente Ho preso quelli più vicini a quello che cercavo Li ho cambiati perché questi ormai avevano fatto il loro corso La montatura era un po' lasca Come vedete è tutto molto allargato Un po' storto perché hanno subito delle cadute Le lenti sono rovinatissime Ora vi spiegherò anche perché E quindi aver cambiato gli occhiali È stato rinvigorente Vi dirò questo Ora questi occhiali Vi faccio vedere Proverò a zoomare e farvi vedere in che condizioni sono le lenti Ora i miei occhiali come sapete li tratto in realtà abbastanza bene Capitano situazioni in cui Cadono, non lo so, succede qualcosa Però appena qualcuno mi tocca gli occhiali io sclero Poi vi spiegherò bene perché Comunque questa è la lente Vediamo se riesco a farlo mettere a fuoco Forse dovrei prendere qualcosa di scuro da mettere dietro Così potete vedere Ok, forse un po' lo vedete È come se ci fosse una patina di sporco Che non è sporco Semplicemente ci sono degli strati di materiale chimico Insomma, antigraffio Antiriflesso Tutta una serie di cose Che con il tempo Con l'usura Vengono a deteriorare E si creano questi aloni Che non vengono via pulendo gli occhiali E quindi ti danno fastidio E peggiorano la vista Perché devi affattere di più l'occhio Per leggere Per fare le cose Quindi arrivavo a un punto di serie In cui io guardando attraverso questi occhiali Vedevo degli aloni attorno alle luci Cose che non sono propriamente adatte E se c'è modo Vanno aggiustati O vanno cambiate le lenti O insomma vanno cambiati gli occhiali Io ho deciso anche di cambiare la montatura Perché questa ha fatto il suo corso È ancora utilizzabile Infatti li terrò come paio di sicurezza Non si sa mai Io non ho un cambio Quindi se succede qualcosa Mi si rompono questi occhiali Almeno avrò sempre questi di riserva Finché non me li faccio nuovi E questi occhiali ce li ho da 4 anni Se non sbaglio Cioè non se non sbaglio Li ho comprati Prima del viaggio che abbiamo fatto In Giappone per la prima volta Penso fosse 2015 E in questi 3-4 anni In questi 4 anni Sono successe davvero tantissime cose E parlando con l'ottico Già il fatto di esporre gli occhiali Alla sabbia del deserto Nel senso che con il vento si alza la sabbia Oppure il fatto che io senza occhiali Davvero non vedo E quindi devo a volte fare il bagno con gli occhiali Se la situazione diciamo Lo richiede Quindi l'acqua salata Le cose Si rovina facilmente E infatti cerco di stare più attento Nonostante io sia già abbastanza attento Con i miei occhiali Il fatto sta che questi occhiali qui Hanno vissuto delle avventure Incredibili E giustamente a una certa Devono andare in pensione Infatti andranno in pensione Ora volevo anche parlarvi del fatto Del perché Io sia così attaccato ai miei occhiali Ok Perché potrebbe sembrare una questione di materialismo Ok della serie Sono i miei occhiali Oppure di possessività Sono i miei occhiali Non li puoi toccare No non mi toccare gli occhiali Allora cos'è il fatto Che questi occhiali Costano davvero tanto E non lo dico per il fattore dei soldi Lo dico per i fattori del Sono cresciuto in cui Come sapete sono cresciuto in una famiglia In cui lavorava solo mio padre E quindi c'era un certo tipo di introiti economici E crescendo I miei occhiali Era una spesa importante Era una spesa davvero importante Perché questo paio di occhiali Non lo dico per niente Ma per farvi capire quanto costa un paio di occhiali Con delle lenti di questo tipo 535 euro Ora 535 euro per un paio di occhiali Non sono pochi Soprattutto per una famiglia con tre figli Insomma potete capire Quindi io mi ritrovavo Con degli occhiali che costavano tanti soldi E quindi appena qualcuno mi ritoccava Poi mi veniva la rabbia Ha detto non ti permettere Non ti permettere Questi costano un botto di soldi E non esiste Ma oltre a quello Oltre quindi al fattore economico Perché effettivamente costano tanti soldi C'è anche il fattore Proprio della visione Signore e signore Io senza occhiali Io ho una serie di problemi all'occhio Che non è solo derivato dal fatto di Ah non vedo da lontano O non vedo da vicino No Io senza occhiali Praticamente non vedo Vedo perennemente sfocato Vuol dire che non vedo da vicino Non vedo da lontano Se ho una persona a 5 metri da me Se ho 2-3 persone Io non vedo lineamenti facciali Io vedo macchie Praticamente Quindi quando uno viene da me E mi tocca gli occhiali Tu non stai toccando i miei occhiali Non stai toccando un oggetto Stai toccando la mia capacità di vedere E quindi è molto più Diciamo Importante di quello che la gente Magari si aspetta Se tu mi dai Mi tocchi gli occhiali È successo a volte Che ci sono persone Stefano Stefano una volta Mi ha lanciato un cuscino Mi ha fatto vedere gli occhiali Cattivissimo Ti ha un pugno nello stomaco Ma l'ho già raccontato Abbiamo già raccontato insieme Ti ha un pugno cattivissimo Perché non c'è ragione neanche Cioè se tu mi tocchi gli occhiali Stai toccando la mia abilità Di vedere Ok Quindi Cioè diventa proprio Non personale Di più È più grave toccarmi gli occhiali Che insultarmi la famiglia Per farti capire E quindi è per questo che Faccio così tanto Personale sempre sugli occhiali Guai a che mi tocca gli occhiali Gli occhiali Gli occhiali Perché ci sono persone in cui Senza occhiali Magari Sì Non puoi leggere Magari arrivano a certe età Che senza occhiali Non riesci a leggere bene Oppure ti viene mal di testa Perché devi fare tanta fatica Oppure ci sono persone che Ok Da vicino Riesco Riesco a vedere tranquillamente Ma allontano dei problemi E quindi prendo degli occhiali Per vedere bene da lontano No Nel mio caso Nella mia situazione E non sono Solo Cioè Siamo in tantissimi Che hanno questo Tipo di problema agli occhi Io Cioè Non vedo proprio Senza occhiali Non è che dici Ah ok Vabbè Senza occhiali Vai Ti vai a fare un giro Sì Riesco tranquillamente Perché Se non devo fare nulla di pratico Ce la faccio Se devo solo camminare E vedere le strade Dove devo andare Di qua di là Ce la faccio Non sono abilitato A fare cose Però Non riuscendo a leggere Cioè Davvero Io non ci vedo Senza occhiali E quindi Ecco Ho spiegato il motivo Del mio attaccamento Agli occhiali Niente Questi sono gli occhiali nuovi Vi faccio vedere Da vicino Ecco io ad esempio Sto cercando di fare Inquadratura Ma non capisco Se è a fuoco Oppure no E niente Come dicevo Bottega Veneta Sono carucci Sono praticamente uguali Agli altri Spero fosse a fuoco E niente Prima di chiudere Volevo farvi vedere Una cosa Che mi hanno regalato A Romics Angelino Che conosciamo da un po' E ci ha fatto anche Altre fanart Tanti regali Che ha fatto Questo disegno Di una foto Che ho caricato Su Instagram Ed è venuto Davvero Davvero Molto bello Carinissimo Col cappello È una foto Che ho fatto Qui a Milano E Molto carino Lo appenderò Qua in camera Oppure in casa E quindi Volevo ecco Ringraziarti Niente Per questo video Signori e signori È tutto L'unica cosa Che voglio dirvi ancora È che noi Ci vediamo Il primo giugno Al Fabric Di Milano Ci sarà In Meets and Friends Tanti ospiti In musica Divertimento Non potete mancare Vi lascio tutti i dettagli In descrizione Come al solito E vi saluto Ci vediamo presto Con un altro video Ciao Trudududutti E vi saluto E vi saluto E vi saluto E vi saluto